Musica Vuoi vincere una skin o devobux gratis su Forte? Bastare iscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video Più amici fare iscrivere più possibilità di vincita avrai Non mancherai nelle mie live su youtube se vuoi vincere skin, pass battaglia o vubux Benvenuti a tutti in questo nuovo video Come avete ben letto al titolo andremo a vedere il perché molte persone dopo che hanno completato le tre sfide d'anno di Marvel Avengers Hanno fatto accesso al proprio accanto e non hanno ricevuto gratuitamente il piccone di Hulk e Hulk Buster Quindi andremo a vedere perché come l'hanno ricevuto e appunto come risolvere questo problema e avere questi picconi Proprio di incominciare al conto se ancora non l'hai fatto ricordo di lasciare un bel like e iscriverti a questo canale attivando la campanella delle notifiche Così è sempre aggiornato su questi video e la vi faccio lo schieno pass battaglia Infine condivido il suo video e tutti i miei amici vengono a far vedere anche a loro come risolvere questo problema E riscattare questi picconi di Hulk sul proprio account di Fortet Quindi partiamo subito infatti soprattutto quando ho pubblicato il video su come completare le tre sfide d'anno di Marvel Avengers Davvero tantissime persone mi hanno segnalato tantissimi problemi Sia sul completamento delle sfide dove appunto alcune sfide erano davvero bagatissime E non faceva andare avanti oppure si bloccavano e si dovevano ricominciare da capo E soprattutto quando dovevano riscattare i picconi Praticamente dopo che avevano completato le tre sfide d'anno necessarie per ottenere i picconi su Fortet Facendo l'accesso al proprio account non si sono ritrovati i picconi gratuiti Questo problema è successo davvero a tantissime persone E appunto come si può risolvere questo problema di riscattare i picconi? Molto semplice, basterà solamente attendere Perché Fortet appena ha tweetato, appena messo questo annuncio E in questo annuncio si va a dire che sono a conoscenza delle segnalazioni di alcuni giocatori Che hanno ricevuto il picconi spaccaponi di Hulk dopo aver completato le sfide d'anno Quindi praticamente Fortet sta lavorando a questo problema E appena lo avrà risolto dare il picconi spaccaponi di Hulk a tutti quelli che hanno completato le tre sfide d'anno E non lo hanno ricevuto proprio per questo bug Quindi appunto dovete solamente attendere penso in giro di qualche ora oppure domani oppure dopo domani Potrete finalmente ottenere sul vostro accanto questo bellissimo piccone spaccaponi di Hulk Fatevi sapere se anche voi avete avuto questo bug dove non ve lo faceva riscattare Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi a questo canale Attenendo la campanella delle notifiche Così siete sempre aggiornati su questi tipi di video e li avvio con lo schieno passo a taglia Infine condividi questo video a tutti voi da amici Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live Grazie 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 Grazie